ciao in questo video finiremo di fare il pantaloncino per questo prendiamo e facciamo combaciare le due cuciture poi apriamo il pantalone e facciamo una cucitura unendo le braghe i video precedenti le trovate sulla mia pagina instagram tatiana govara insegna oppure sul mio canale youtube canale di tatiana govara ovviamente iscrivetevi al mio account alla mia pagina per non perdere i prossimi video e per essere al corrente di tutte le novità ora abbiamo finito di cucire il nostro pantaloncino possiamo rigerarlo vediamo che cosa è uscito come opzione potete anche attaccare delle toppe sulle ginocchia che sono molto carine anche a difetto se no il pantaloncino è pronto così con le tasche ora se non vi siete ancora iscritti al mio canale o la mia pagina fatelo adesso e noi ci vediamo nei prossimi video ciao ciao